Ciao Monique. Ciao. Ciao. Sei pronta ad andare al canale YouTube di Un Sarda New York a raccontarci un po' di te? Pronta. Bene. Allora, Monique Granata è qui con una doppia veste che la prima è quella di autrice di un libro che a me è piaciuto moltissimo e la seconda la scoprirete durante l'intervista. Cominciamo con questo libro. Raccontaci un pochino del libro. Io, come ho appena detto, sono rimasto molto contento. È un testo che trasmette con semplicità molte emozioni, oltre a parlare di New York, che è il motivo principale poi perché siamo qui. È il motivo che ci ha fatto anche conoscere grazie ai social, che ogni tanto servono anche a qualcosa di positivo. E davvero, ci sono stati dei momenti in cui per me è stato emozionante, anche perché, come ti ho detto, quando ci siamo conosciuti la prima volta, ci sono molte somiglianze tra noi. Oltre a questa passione di New York, anche nella vita privata abbiamo delle cose così che ci sono in comune. Sì, esattamente. Ti dico soltanto una cosa sul libro e poi lascio parlare a te. Quali sono stati i miei capitoli preferiti? Allora, sicuramente l'apparizione in attesa è il primo che mi ha toccato molto, al di là poi delle descrizioni. E poi l'ultimo capitolo, del quale non voglio rivalare il titolo, perché mi piacerebbe che chi ci ascolta poi lo leggesse, perché alla fine anche io stavo un pochino come te, perdendo un po' di quella grinta. E quindi leggere l'ultimo capitolo mi è piaciuto. Ok, sono rimasto molto contento. Adesso lascio la parola a te, così ci racconti un pochino di questo testo bellissimo. Sì, allora, intanto ti faccio vedere il libro, che è questo. Eccolo qui. Guardatelo bene, perché ce n'è uno in giro che gli assomiglia. Eccolo qua. Ma questo è uscito prima. Quando è stato pubblicato questo libro? Questo è stato pubblicato il primo aprile. Bello, quindi per fortuna a te la quarantena ha portato qualcosa di positivo. Esatto, sì, perché mentre tutti erano disperati, perché erano fermi, io ero partita con il mio progetto e quindi è andata bene. È andata bene e adesso racconto un po' la storia di questo libro. Allora, inizia che noi siamo, io e Simone, mio marito, i protagonisti del libro, siamo all'aeroporto di Malpensa, pronti per partire per New York. A quel punto infilo alle orecchie le cuffie, ascolto una canzone che mi riporta a mio zio, che non c'è più, che è mancato. Che è il terzo protagonista di questo testo. Esatto, esatto. Lui è il terzo protagonista, che ci accompagna nella storia poi. Questa canzone mi riporta a lui, allora io inizio a scrivere una lettera a lui, anche se lui non c'è più. Gli scrivo e gli racconto quello che si è perso da quando lui non c'è più. E quindi inizio la storia da quando ho conosciuto Simone. E poi, insomma, quando io mi sono trasferita a Torino per raggiungere lui, perché ovviamente una storia a distanza poi non è gestibile nel lungo termine. Perciò io prendo e mi trasferisco a Torino e da lì, insomma, seguono tutti i nostri progetti di vita finché non arriva il giorno in cui ci sposiamo e decidiamo di comune accordo di andare a New York, perché siamo innamorati di New York entrambi. Per il viaggio di nozze. Sì, per il viaggio di nozze e da lì già ne eravamo innamorati prima di vederla. Quando l'abbiamo vista abbiamo solo confermato il nostro amore per la città e quindi decidiamo di visitare questa città e infatti nel libro io porto il lettore a visitare la città con noi. Quindi ho elencato tutti i luoghi che abbiamo visitato, quelli che ci sono piaciuti di più e perché. Finché non decidiamo per una serie di circostanze a cui ci ha portato la vita, a pensare seriamente di trasferirci a New York. Da lì nasce tutto l'iter per la green card e poi, vabbè, non voglio svelare quello che succede dopo, però, insomma, con tutto l'iter della green card inizia un'avventura che finisce con l'ultimo capitolo di cui parlavi tu. Tu, Simone e tuo zio siete i protagonisti assoluti di questo libro. Mi piacerebbe che ti dicessi un altro uomo e un'altra donna che hanno fatto la differenza in questo libro. Iniziamo dalla donna. Direi che è Annalisa Menin. Ok. Perché? Perché da quando, vabbè, avevamo già fatto tutto, nel senso che poi eravamo già quasi, quasi a fine percorso quando l'abbiamo conosciuta. Però nei momenti di difficoltà, lei essendo già là e soprattutto poi la forza che mi ha trasmesso con il suo libro, mi hanno dato la forza di andare avanti, di dire no, non è finita. Bene. E lei stessa ce lo diceva e quindi lei, l'ho sempre detto e sempre lo dirò, che è un momento, che è un punto fermo di questa storia. Bene. Io avevo, ricordo, fatto lo screenshot del suo testo quando è uscito e poi mi sono dimenticato, mi è venuto in mente leggertoti. Mi è venuto in mente, credo che lo comprerò e lo leggerò. Intanto la saluto e magari riuscirò a sentire anche lei. Il maschietto l'hai trovato? Oltre a mio marito e oltre a mio zio, ci metto dentro mio fratello. Ok. Perché alla fine, nonostante lui non fosse così felice del fatto che noi fossimo in procinto di trasferirci dall'altra parte dell'oceano, è stato quello che ci ha sorretto di più, che è stato più obiettivo, che ha detto ragazzi, so che lo fate per voi, so che è la vostra vita e quindi sono felice per voi se va tutto a buon fine. Diciamo che lui è l'altro protagonista maschile. Perfetto. Adesso ti dico qual è stato il mio. Qual è stato quello che per me, dal lettore, ha acceso una lampadina di interesse ancora maggiore rispetto al libro, sicuramente il Guardiano di Central Park. Lì... Sì, io lì... Mi è venuto un colpo. Praticamente per me quello è mio zio, quindi io lo accantono già come personaggio. Poi ovviamente nel libro l'ho messo in maniera tale che non sono sicura che sia lui, perché ovviamente non ho la certezza scientifica che quello sia lui. Però per me quello era lui, quindi io... per me quello è zio. Da qui mi allaccio un'altra cosa che avrei voluto chiederti. C'è quest'episodio, poi ce n'è un altro che è quello quando parli dei tuoi 15 anni, della gita in montagna e ce ne sono anche un altro paio che non sto qui a raccontare, nei quali si capisce che tu comunque credi a una vita ultraterrena. Non diamo un nome, un cognome a nessuno, ok? Però tu sei fortemente convinta che ci sia... Assolutamente sì. Perché... Cosa ti aspetti, tra virgolette? Perché hai avuto tutte queste prove, ok? Che per te immagino siano... Certo, non ho aspettative, però tutti questi avvenimenti... E poi questa storia mi ha dato l'ulteriore conferma che qualcosa deve esistere per forza. Perché altrimenti non si spiegherebbe tutto quello che è successo. Certo, ma anche io, infatti, se avessi avuto stimoli, chiamiamoli così, di questo genere, probabilmente mi troverei nella tua stessa situazione. Cioè, avere i tuoi stessi pensieri o comunque molto simili. Esatto. C'è una ragazza che mi è piaciuta, ma mi è piaciuto il contesto al di là di Annalisa. È stata Jane. Mi chiedevo se fossi ancora in contatto con lei. Certo, sì, sempre. Lei com'è? Sempre, infatti... Lei adesso è in Italia, si trasferirà negli Stati Uniti a novembre. Non è molto felice di questa cosa, però segue suo marito, che, come dicevo nel libro, è un soldato americano, quindi seguirà lui. Lei ama l'Italia, ama stare in Italia. Conoscendo bene l'America, probabilmente lei ha questo pensiero, insomma, che è meglio l'Italia. Bene, allora, evitiamo di parlare ancora del libro, non perché non ce ne sia, quanto perché, ripeto, non mi piacerebbe andare troppo a fondo, perché qui lo raccontiamo. Doviniamo la sorpresa. Per chi ne è che lo leggano. Parliamo invece della seconda parte dell'intervista, che è quella che ti vede come, al di là di Appassionata di New York, che l'abbiamo capito, ma ti vede come vincitrice di riflesso di questa green card. Esatto. Di riflesso perché... Mi riflesso perché l'ha vinta Simone, che adesso arriva. Eccolo, arriva. Do una cuffietta anche a lui. Ciao Simo, ti abbiamo tirato in barco. Ciao, ti abbiamo tirato in barco. Ciao Nicola. Ti avete fatto bene. Madonna, avete fatto sei al Suprena l'otto voi. Le probabilità... Forse anche sette. Forse anche sette. Come diceva prima lei, Anna-Lisa Menin ci ha detto che abbiamo vinto praticamente il Santo Graal con questa carta, ecco. L'hai già mostrata? Eccola. Facci vedere. Questa è la mia. Questa è la mia. Non fa a cambiare la fotografia che metto la mia? Puoi provare, però non so se... Puoi provare, puoi provare. Noi siamo sentiti qualche mese fa l'ultima volta e io non ho più voluto saper niente, perché comunque con questa situazione del Covid e delle frontiere chiuse e dei visti limitati, non so come sia andata. Quindi sono qui che aspetto... La sorpresa. Le novità, le novità, sì. Allora, aspetterai ancora un pochino perché questo è tutto materiale del secondo libro. Ah, non possiamo svelare niente. Che uscirà il prossimo anno. Però ti do un anticipo. Sì. Il libro sarà tutta una sorpresa. Sarà molto diverso da questo. Ok. Non ti dico nulla sulla scelta finale, però ti dico che per il momento siamo in Italia e rimaniamo in Italia. Ok. Ma solo per il momento. Bene, dai. Quindi... Non ti rattristo. E' tutta una sorpresa. Non ti rattristare, noi non l'abbiamo fatto. Il Covid ci ha solo rallentato, ma non ci ferma. Quindi... Ciao a tutti. Io sono... In Sardegna adesso voi siete nelle Marche, giusto? Esatto. E poi dovrei essere prossimo alla partenza per Milano e poi da Milano a New York. Invece farò il mio posto in Sardegna. Sardegna che non è malvagio, però sai, quando hai... Però non è così malvagio, eh? No, 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 no. Non è malvagio, assolutamente. Però sapere che tutto questo ti ha fatto saltare i piani di un anno intero, vediamo. Poi l'anno prossimo si... Esatto. Che poi sono... Che poi... Per noi sono tre anni, perché dal 2017 che siamo dietro questa cosa. Però, come ho detto, non ci ferma. E quindi... Non avevo idea che il percorso fosse così lungo. Leggendo ho detto, aiuto. Eh, sì. Diventa... Sì, sì. Praticamente, sì, perché da quando tu ti iscrivi alla lotteria e passano già sei mesi perché tu sappia se hai vinto o meno. E poi da lì è passato praticamente un anno perché facessimo il colloquio a Napoli. Sì, c'è tutto un interlunghissimo, come avrei avuto modo anche di leggere, insomma, che comporta una raccolta infinita di documenti, visite, consolato. Questo è un percorso è un percorso piuttosto complicato. Non sapevo che fosse consolato poi che si occupasse di queste cose, cioè, sei stata brava. Darei sicuramente una mano a chi, come voi, fortunato, riuscirà ad avere questa possibilità. Esatto, esatto. Bene, ascolta. Invece parliamo un attimo di New York adesso. Parliamo di un posto speciale per voi. Uno è altra o una è altra? Ecco, allora, il suo l'ho rivellato nel libro, però lo dirà lui. Il mio è sicuramente Battery Park. Ok, c'è un motivo. L'ho sempre detto, è il mio posto preferito. Ma è proprio l'atmosfera che mi ha affascinato di quel posto e ogni volta che ci torno mi dà sempre la stessa impressione. La prima volta siamo andati all'ora di pranzo, quindi, eppure me ne sono innamorata. Stavolta, l'ultima volta, siamo andati al tramonto e quindi, non so, saranno le luci del tramonto, sarà che iniziavano ad accendersi le luci dei grattacieli intorno, sarà per la statua della libertà che sta dall'altra parte e ti guarda. E per il rumore dell'acqua che rilassa da morire. Quindi io mi sono innamorata di quel posto. Io ho detto, se non mi trovate più un giorno, cercatemi lì perché sono lì. Simo, invece? Allora, per me, dunque, io posto del cuore mi piace molto Times Square perché è piena di luci, colori, rumori, mi piace. La prima volta che l'ho vista me la immaginavo diversa. Ti dirò che me la immaginavo più grande, invece l'ho trovata relativamente piccola, perché poi piccola non è. Però me la immaginavo un po' diversa. E poi, in realtà, anche a me piace molto Battery Park perché, da appassionato di fotografia, se vai in determinati momenti della giornata, tra grattacieli, mare, se vai all'alba o al tramonto, come diceva anche lei poco fa... Ci passi le ore. Oggettivamente potrei starci lì anche sei ore di seguito a fare fotografie, ecco. È bellissimo. Battery Park, anche allo stesso modo la sponda di Brooklyn che dà su Manhattan, io metto più o meno allo stesso livello. Esatto. La Battery Park è una visione migliore di Miss Liberty, ma anche stare dall'altra parte dell'East River e guardare Manhattan. È vero, è vero. È vero, è vero. E ne parlo nel secondo libro, perché parlo della prospettiva di Long Island City, dove siamo stati. Bene. E invece la Public Library? La Public Library mi sta nel cuore. Infatti io ho pensato che ci fosse quello, cioè ci fosse quella tra i vostri posti preferiti. Ma quello è subito al secondo posto. Sì, quello è subito dietro, perché è splendida. A parte che rispetto alla media delle biblioteche italiane è tenuta in una maniera meravigliosa e splendida, quindi... Spettacolare. E poi sì, c'è ambientato la New York City, ci sarà ambientato anche parte del secondo libro e quindi mi sta molto a cuore quel posto. Però se devo scegliere tra i due, scelgo Battery Park, sicuramente. E invece facciamo un'ipotesi. Tra un mese, tra due, tra sei si parte. A parte la famiglia, che cos'è la cosa che vorreste portare con voi? Allora, a parte la famiglia, nella famiglia c'è compreso anche whisky e il cane. Sì, includiamolo, includiamolo nella famiglia. Lo ricordo. Vediamolo lì, mettiamolo in famiglia. Lo ricordo. Beh, a parte quello, io direi sicuramente gli amici. Il cibo italiano, si può dire? Gli amici che non sono compresi nella famiglia. Sì, no, farei il finito al libro. Perché mi pare che si sia trovata bene a mangiare anche schifezze americane. Sì, però dopo un po' non ce la fai più, eh. Sì, infatti abbiamo fatto una pausa. Magari dopo tre giorni ti viene la voglia di pasta. Quindi schifezze sì, ma dopo un po' basta. Quindi gli amici... Stavo dicendo... Sì, gli amici che io reputo già come famiglia, però non sono scontati e quindi mi piace sottolinearlo. Gli amici sono un motivo per cui noi pensavamo di rimanere anche. Ci credo. Perché a un certo punto ti chiedi, ma io arrivo là, ok, vivo a New York, ok, ho tutto, non mi manca nulla. Però le amicizie ti mancano. Cioè la pizza della domenica sera con gli amici non ce l'hai. Cioè puoi avercela in videochiamata, ma non è la stessa cosa. E quindi quella è una cosa fondamentale. E poi, come diceva lui, il cibo. Però hai già tanti contatti a New York comunque. Quindi è normale che ci sia un lavoro, tra virgolette, da fare. Però sarà anche semplice incontrare tante persone come voi che si trovano in un posto più o meno nuovo e hanno anche il piacere di condividere. Così come ho letto che è successo con Enrica, la mia conterraia. E spero di vedere presto perché... La vedrai prestissimo perché sta arrivando. Perché arriva proprio oggi, se non sbaglio. Invece ho fatto il vostro percorso inverso praticamente. Bravo, bravo. Novità da lei da qualche mese, solo che era sempre super impegnata. Poi lei che lavorava come Simone da biologa in un istituto aveva veramente tanto da fare, non è mai stata a casa praticamente. Quindi ripieremo la nostra chiacchierata in terra sarda. E poi lei è sempre impegnata con la sua pagina Pranzo con Enricotta in cui ci fa sempre vedere buoni piatti e ci fa venire l'acquolina in bocca. Adesso vediamo quale sarà il nuovo progetto sardo, l'aspettiamo. Esatto, esatto, aspettiamo. Ascolta Monique, tu hai una pagina, un blog, un sito, qualcosa che possiamo... Allora, io sto seguendo la pagina più che altro Instagram ma anche Facebook di Volo a New York City Romanzo e quindi principalmente sono attiva lì. Quindi sia con le novità sul nuovo libro che sugli spezzoni di Volo a New York City li trovate tutti nella pagina. Perfetto, quindi andate a vedere questa pagina ma soprattutto andate a cercare il libro. Io mi sono letto il digitale, abbiate pazienza. Mi tocca comprare il cartaceo. Infatti vale come il cartaceo. Però voglio l'autografo, quindi mi tocca comprare il cartaceo con la... Sarà fatto, sarà fatto. Va bene. Allora ti aspettiamo o nelle Marche o a Torino, dove vuoi tu. Magari a New York. O ci vediamo a New York. Magari a New York, perché no? Ragazzi, per me è stato un piacere. Ripeto, anche per noi. Chiaccherare con voi e conoscervi. Invito tutti gli amici di Un Sardo a New York, ripeto, a cercare il libro e cercare la pagina di Monique. Leggetelo perché è molto piacevole. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Nico, grazie. Ciao. Ciao, a presto. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti